In position, set, andiamo a far segnare il tempo di riferimento, vista che sembra essere leggermente più lenta rispetto alla prima serata. Benedetta Rossini e Alessia Cesca vanno a concludere la loro prova ed è Benedetta Rossini, subito sotto i 20 secondi, 19, 960, 23, 7, 10, e non è decima, valla dire Erika Grecci, fortitudo famigliano, e Rebecca Varagusa, rottelistica Rosetta di Merate. Sotto i 20 secondi bisogna stare, 19, 96 di Benedetta Rossini, che ho al tempo che è di 20,087 per Erika Grecci, e 20 in centro, quindi sotto i ricicliano, in position, set, andate in settima, quale a dire Chiara Vio, partitore Spinea, e Camilla Veggiardo, polisportiva Casiero, la prima azzurra che scende in pista alle Junio, la velocista, una delle velociste della polisportiva Casiero, quale a dire Camilla Veggiardo, occhio al tempo, 20,078 per Vio, 20,242 per Veggiardo, resiste, 19, 96. In position, set, partite, lì San Giorno è pozzato, quinta e sesta, questa mattina, bisogna andare sotto i 20 secondi, bisogna andare sotto i 20 secondi, i 19, 96 di Benedetta Rossini, sono sul rettilineo, sul pezzo rettilineo finale, 19, 826, Gaia Lissandron, 20, 256, Francesca Pozzano. In position, set, e qui due delle migliori velociste degli ultimi anni, la Giulia Bozzano ha tanti titoli, anche a livello internazionale, qualche stagione fa, Ilaria Carrera, campionessa europea, vice campionessa del mondo, occhio al tempo, bisogna fare meno di 19,82, arriva ed è 19,469, Ilaria Carrera, miglior tempo, è 19,688 per Giulia Bozzano. In position, set, Ilaria Carrera, miglior tempo per l'Asia Barani, avrà fatto 18,804, vado a memoria, 19,59 per Valentina, siamo alla finale, meno di 19 per il titolo e per il podio, arriva Asia, 18,822, e 19,91, quindi seconda posizione per Valentina.